Hai già la tua storia da raccontare? Magari la stai ancora cercando. Non preoccuparti, in questi due anni ci lavorerai. Intanto fai scorrere le dita sulla tastiera e inizi a raccogliere le idee. Stai per entrare a scrivere. Lavora sulle strutture. Leggi, scrivi e riscrivi i classici. Cambia il finale di Moby Dick. Spegni l'ultima sigaretta di Zeno. Trasforma la tua lista della spesa in un thriller di Murakami e la tua cena di Natale in un capitolo di Fight Club. Le voci dei grandi autori e dei loro personaggi ti accompagneranno. Avrai tempo per capire se stai cercando di raccontare una fiction o una storia vera. Magari incontrando Carrère o ritrovandoti in corciera con Wallace. Le notizie per un reportage sono dietro l'angolo, tra una pagina di giornale e uno swipe sullo smartphone. Ti potrebbe venire voglia di intervistare chi ha assistito a un evento irripetibile, ma anche di scambiare quattro chiacchiere e un po' di visioni sul mondo, tra i corridoi della scuola. Ti sembra troppo? Sei solo all'inizio. Quindi non perdere tempo. Torna in aula e continua a scrivere. Grazie a tutti. Grazie a tutti